Diciamo che oggi questa regione di Favara è una delle tante programmate con l'organizzazione sindacale MGL Regione Autonomia Locale sull'ambito regionale in vista delle stazioni che abbiamo indetta per mercoledì 19 a Palermo con cui rivendichiamo l'approvazione di una norma già esitata dalla Commissione del Lavoro per la stabilizzazione del precariato sia esso con contratto a tempo terminato che impegnati in attività socialmente voti. I numeri che cointeressano la categoria sono 13.000 soggetti che operano negli enti locali, 4.500 negli enti regionali e 6.500 sono ancora impegnati in attività socialmente utili. Quello che si rivendica e comunque dico con l'occasione e ringrazio per la disponibilità che ci date rivolge un invito ai colleghi per capire che è un momento particolare e siamo in una fase in cui potremmo definitivamente porre il punto fino a questa vicenda che si trascina da 21 anni. Quindi sta a loro la riuscita perché l'unica differenza che faremo con le altre stazioni saranno i numeri in piazza che riusciremo a portare. Noi stiamo proponendo adesso di portarci per il giorno 19 a Palermo a fare uno sciopero per quanto riguarda la nostra stabilizzazione perché dopo vent'anni di precariato siamo stanchissimi di continuare in questa situazione per cui proponiamo questo sciopero per far sì che di approvare questo testo di legge che noi abbiamo fatto apportare alla quinta commissione lavoro per quindi farci stabilizzare a tempo indeterminato. Dopo vent'anni credo che sia il minimo che si possa fare insomma.